Un simbolo non è mai fermo nel tempo, può essere mutevole come Gibellina, cittadina siciliana, simbolo di un terremoto prima, poi di rinascita e oggi quanto mai di cultura e arti visive. Le Orestiadi sono un festival internazionale che raggiunge la sua 36esima edizione, quest'anno si svolgerà nel periodo compreso tra il 15 luglio e il 12 agosto. L'arte e la cultura sono diventate la cifra attorno alla quale ricostruire la comunità, dare senso alla comunità che avevano perduto memoria, tradizioni, oltre che case, vite nella tragedia. La cultura è qualcosa di fondamentale nella storia di un paese, nelle scelte politiche di una regione, ecco questa regione deve sapere sempre di più e meglio investire nelle proprie tradizioni, nei propri beni archeologici, nei propri beni ambientali e nella propria cultura. Quasi un mese, 20 spettacoli, 7 concerti, 4 prime nazionali. Ci si affida agli artisti e si spera che gli artisti usino un linguaggio che abbia a che fare con la commistione delle varie specificità, per cui quest'anno presentiamo molto teatro e musica, molta musica che si rivolge al teatro. Questa commistione di linguaggi e questa possibilità di dialogo che c'è tra le arti è quello che ci rende felici nella presentazione del festival. E non solo, tra i concerti, visioni dell'Officina Teatro LMC di Trapani, innovazione e tradizione, anche considerato che ci sarà una rivisitazione di Luigi Pirandello. L'omaggio di Giuseppe Pambieri con 100.000, uno, nessuno. Si potrà anche visitare il Museo delle Trame Mediterranee e le nuove mostre allestite, arte, musica e teatro, abbiamo detto, i vertici di un triangolo dalla chimica perfetta.